Musica Domenica 28 gennaio, ben ritrovati con l'edicola, lo spazio che qui su TRMH24 dedichiamo alla lettura di alcuni quotidiani che oggi troverete proprio nell'edicole. E come di consueto partiamo subito dalla lettura delle prime di La Repubblica e Corriere della Sera. Partiamo proprio dalla Repubblica. In primo piano gli esteri, la guerra a Gaza, Cain, Yunis, nella terra che sarà di nessuno. Poi parla la direttrice del fondo MNI, l'Italia, ripensi al MES, dicono, invita appunto la direttrice del fondo, il nostro paese, a riconsiderare la decisione di non sottoscrivere il meccanismo di stabilità e invita poi a tagliare il debito. È un buon momento per farlo perché avete l'incredibile opportunità di contare sul PNRR. Green Deal, tasse alte, i trattori bloccano la 1 contro governo e Unione Europea. E andiamo adesso invece sulla prima del Corriere della Sera. Shoah, ricordo e tensioni. Ieri a macchia d'olio le proteste in tutta Italia. Milano, 1500 in piazza per la Palestina a Roma. Il manichino di Netanyahu con la divisa dei deportati. Meloni dice, fu un crimine nazifascista. Stop ai fondi per l'agenzia ONU sotto accusa. Caso l'olobrigida sul carburante. Noi con gli agricoltori, dice, i trattori bloccano le strade. La protesta contro l'Unione Europea. E ancora dalla prima del Corriere della Sera, a fondo il dossier all'interno delle pagine di oggi, PNRR, il rischio che finanzi la spesa corrente. E ancora sulla prima nazionale, questa volta della Gazzetta del Mezzogiorno. I mali della giustizia, le toghe contro le riforme politici intolleranti al controllo, dicono nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in Puglia e Basilicata. E poi con la politica Bari-Leccese alla Forgia, non dividiamoci il centrodestra, ora invece accelera sui candidati. Fotonotizie dedicate al calcio. Bari inguardabile con la reggiana Liral-San Nicola dei tifosi dopo la partita. E questa è una delle immagini della protesta fuori proprio dallo stadio. Tifosi contro Polito. E poi invece Lecce a Genova per rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa contro la Juve. Lavoro, emergenza Ilva, Taranto in ansia, domani l'indotto in corteo arriva, così la lettera aperta al presidente Sergio Mattarella, che ricordiamo sarà domani impegnato nel capoluogo pugliese. E adesso invece leggiamo le pagine interne di Repubblica Bari. Partiamo dal paginone. L'appello di De Castri, la corruzione preoccupa, non accettate voti dai clan. Il nuovo procuratore generale parla all'inaugurazione dell'anno giudiziario che si è svolto ieri a Bari. Le candidature andranno soppesate. De Caro dice legalità come pratica quotidiana. Emiliano cita poi il caso Lerario. E qui appunto uno dei momenti dell'evento di ieri. Vediamo il procuratore generale Leonardo Leone De Castri, poi a destra il viceministro Francesco Paolo Sisto. Il personaggio idem verso l'assemblea leccese in pole position in campo se uniscono, dice. E poi nel taglio basso l'intervista alla forgia a nome portata avanti dal movimento La Conversione. E appoggiato dal Movimento 5 Stelle. Con la cronaca, medici positivi e asintomatici devono lavorare insieme. Isolati, proteste al Policlinico dopo una circolare della direzione. Siamo ghettizzati, dicono. Referto sangue in giornata al divenere. Il centro avvia così l'iniziativa. Azzera i tempi e le file per gli utenti. L'allarme sparano in strada, i colpi entrano in casa, sono vivi per miracoli. Accaduto al rione Libertà un bossolo nel frigo di un'anziana con figlio disabile. E ancora dalle pagine di Repubblica spostiamoci direttamente alla pagina sportiva. Al San Nicola, 0-2 per la reggiana scatta così la contestazione al Bari più brutto. De Laurentiis vai via la contestazione dei tifosi fuori dallo stadio. Allenatore e giocatori con Pulito incontrano i tifosi che assediano lo stadio. Siamo in debito, ora massimo impegno. Dalle pagine interne di Repubblica ci spostiamo a quelle del Corriere del Mezzogiorno. In primo piano affoggia l'anno accademico parte male, quattro dipartimenti sfiduciano il rettore. E poi con la giustizia, sul voto di giugno l'allarme mafia, monito di De Castris in visa di europee comunali, non candidate chi è vicino ai clan. E anche il Corriere del Mezzogiorno riporta in primo piano, in prima pagina, la fotonotizia della sconfitta del Bari ieri in casa. Mentre entriamo nelle pagine interne del quotidiano di oggi, sul paginone, in primo piano il voto di Bari, vediamo queste due fotografie, l'avvocato Michele Laforge, poi il capo del gabinetto Vito Leccese. Primarie con Leccese, vedremo, ma nessuno mi dica di lasciare Laforge incontra il candidato PD. Finora non abbiamo scherzato. Poi l'anno giudiziario ieri a Bari, De Castris rincalza sul fatto di non dover candidare persone vicine ai clan mafiosi. E ancora da Foggia, Università nella bufera. La nostra fiducia è finita, dicono quattro dipartimenti su otto contro il rettore Lomurzio. Dura la lettera di accuse, mentre domani si inaugura l'anno accademico proprio dell'Università a Foggia. E infine anche qui ci spostiamo sulla pagina sportiva. Bari non pervenuto, tracollo, casalingo e poi le contestazioni. Biancorossi non tirano mai in porta. Vince così la Reggiana. A fine partita, Ultras scatenati contro società e squadre. In questa poi immagine, pulito in tribuna, accanto al presidente De Laurentiis, guarda i biancorossi incapaci di reagire. Continuiamo la nostra lettura. Ci spostiamo sulla prima pagina dell'edicola del Sud. Non candidate persone vicine ai clan. Ancora i quotidiani locali di oggi aprono con le parole di De Castris ieri a Bari. Ricordiamo per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ovviamente sono settimane concitate per Bari, per la scelta della coalizione di centrodestra e centrosinistra, per quelli che saranno i nuovi in vista delle prossime chiamate alle urne. Poi Fitto a Foggia. Destra Unita, PNRR, parlano i risultati. Dicono, risponde appunto a una domanda dei colleghi che chiedono i motivi dell'ira di Emiliano. Lui dice invece semplicemente che la Commissione europea sta premiando anche la Puglia con l'erogazione della quarta rata. E in centro alla prima pagina dell'edicola di oggi una foto presa dai social della contestazione dei tifosi che si avvicinano alla porta d'ingresso della squadra del Bari al San Nicola. Dalla protesta dopo la gara che finisce 2-0 per la Reggiana Ultras Infuriati. Dopo l'ennesimo KO in casa, Bari sconfitto. I tifosi contestano. Ieri perdono tre punti. Ricordiamo domenica scorsa, scusate, ad Ascoli da 2-0. I biancorossi tornarono a casa con un solo punto quando l'Ascoli appunto andò in parità. E ancora l'edicola del sud ma ci spostiamo nella sezione legata alla Basilicata e nel sud della Puglia. Leggiamo subito la fotonotizia che parla del riconoscimento alle escursioni culturali e inclusive. Martina Franca è un comune gentile. Il titolo, l'International Kidness Movement, premia i cammini nei trattori. E poi da Taranto, l'acciaieria di Taranto e Xilva dall'indotto SOS a Mattarella. Scongiurare lo stop, scrivono appunto i sindacati in una lettera destinata proprio al presidente. Velocemente i tagli laterali a Lecce. Perseguita la fidanzata per sette anni. E rimanendo sempre nel Salento, le cartelle le paghi il governo. Poi andiamo a Brindisi, acqua, riuso per i campi, il piano di Acquedotto Pugliese. E infine torniamo a Taranto. Boss pentito, ora vive per strada. E chiudiamo come sempre la nostra edicola leggendo la prima pagina del Sole 24 Ore. Taglio quindi economico delle notizie che oggi troverete in edicola. E partiamo proprio con la borsa Utili 2023 per 83 miliardi. Ovvero un più 10%. Mercati e trimestrali. Aumento redditività a piazza affari grazie alle banche. Ma in frenata inizio 2024. Poi concorrenze in arrivo. Nuova legge su ambulanti, RC Auto e Autostrado. Il governo infatti ha lavoro in questione su queste nuove misure. E poi l'inchiesta. Crisi, rabbia e paura. Viaggio nell'America che crede in Trump. Candidato appunto per il 2024. E queste sono solo alcune delle notizie presenti sui quotidiani di oggi. Come spesso vi ricordo in questo spazio. Molte di queste saranno approfondite nel corso dei nostri telegiornali. Pertanto vi invito a rimanere ancora sui nostri canali. A voi tutti intanto un buon proseguimento di giornata.